Bene, ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 331 favorevoli, nessuno contrario. La Camera approva 11.02, Caparini ed altri. I pareri sono contrari, non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 36 favorevoli, 217 contrari. La Camera rispinge. 12.50. Adesso i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 12. Prego, la parola al relatore. Grazie, Presidente. Qui, in analogia a quanto detto in precedenza, l'espressione di parere favorevole sulla proposta di emendamento del collega Marchi 12.51 determina la richiesta di ritiro o l'assorbimento degli altri. In particolare, quindi, il 12.50 Marchi, invito al ritiro parere contrario. Il 12.52 Fabrizio Di Stefano Chiuto, invito al ritiro parere contrario. Giovanna Sanna, 12.9, invito al ritiro parere contrario. Il 12.54 Fanucci, Marchi, invito al ritiro parere contrario. Il 12.4 Sciullin e altri, uguale al 12.13 Castiello, uguale al 12.53 Occhiuto, invito al ritiro parere contrario. E parere favorevole al 12.51 Marchi. Poi il 12.2 Pellegrino ed altri, invito al ritiro parere contrario. Il 12.15 Guidesi ed altri, invito al ritiro parere contrario. Il 12.14 Guidesi ed altri, invito al ritiro parere contrario. Il 12.6 dovrebbe essere stato ritirato. Ritirato prima della seduta. Esatto. Il 12.01 Caparini ed altri, invito al ritiro parere contrario. Il 12.02 Burtone, parere favorevole con una nuova formulazione di cui do lettura. Articolo 12 bis, ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, le Regioni e le firme commission regionali, ove presenti, predispone senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica. Mi pare che ci siano tutti. La ringrazio il Governo. Informa il relatore. Grazie. Allora, siamo sugli identici 12.50 Marchi e 12.52 Fabrizio Di Stefano. Marchi? Ritirato. Ritirati. Ah no, il Di Stefano rimane. Quindi, 12.52 Fabrizio Di Stefano, parere contrario, non ci sono interventi, dichiara aperta la votazione. Muller. Vezzali. Massa.